buongiorno e se ti lascia cosa fai iniziamo col chiederci cosa direbbe freud il padre della psicoanalisi sulla manipolazione affettiva sul narcisismo sulla dipendenza affettiva come si potrebbe declinare la teoria psicoanalitica sui problemi di dipendenza affettiva così diffusi nella nostra società freud chiederebbe subito al suo paziente perché pensi che se il tuo partner ti lasciasse vivresti qualcosa di terrificante ne sei proprio sicuro per freud ogni pensiero che noi abbiamo è solo un'ipotesi perciò cercherebbe subito di mettere in discussione le convinzioni del paziente affinché possa cambiare i suoi pensieri disadattivi freud inviterebbe il suo paziente ad associare liberamente evidenziando le emozioni connesse a quei pensieri per poi rimettere tutto in discussione dopodiché potrebbe invitare il paziente ad immaginare nuovi comportamenti ma alla fine sarà lui il paziente aggiungere ad una conclusione lo psicoterapeuta non impone nulla semmai facilita il processo di ricerca di nuovi comportamenti più adattivi in estrema sintesi freud ci ha insegnato che la nostra reazione ad un certo avvenimento dipende dipende molto da come noi lo percepiamo e da come lo interpretiamo immaginiamo di avere un appuntamento con una persona che abbiamo conosciuto da poco ci piace ma la aspettiamo già da mezz'ora fa ritardo se la nostra interpretazione è che non le interessiamo perché fa ritardo ci sentiremo tristi e non torneremo a stabilire un contatto con lei se invece pensiamo che il ritardo sia dovuto ad un imprevisto la nostra reazione emotiva e anche il nostro comportamento saranno molto diversi ora le supposizioni che una persona ha interferiscono con il suo pensiero e possono produrre degli errori logici fra questi errori ci sono i pregiudizi ci sono la generalizzazione affrettata poi c'è anche il pensiero dicotomico quello in bianco e nero fino ad arrivare al pensiero catastrofico dunque freud dice non sono gli avvenimenti di per sé i responsabili delle nostre azioni emotive ma sono le aspettative soprattutto le interpretazioni di questi avvenimenti insieme alle credenze che noi abbiamo sono questi i veri responsabili di come ci sentiamo e di quello che facciamo delle nostre reazioni emotive secondo l'ottica psicoanalitica questo porta il paziente a vivere degli stati emotivi negativi sono appunto i pensieri che automaticamente inconsciamente il paziente produce in determinate situazioni cioè sono i suoi automatismi culturali i suoi schemi mentali quindi le sue credenze a determinare la sofferenza emotiva allora freud cosa fa inizia a mettere in discussione queste convinzioni disfunzionali e una volta che il paziente diventa un po più consapevole del legame tra le sue emozioni e i suoi pensieri può iniziare a modificare le idee per cambiare lo stato d'animo proprio da questi concetti basilari nascerà poi negli anni la ristrutturazione cognitiva che incoraggia il paziente ad assumere una posizione più critica e consapevole rispetto alla realtà e così pian piano può iniziare a pensare che le sue non sono constatazioni di verità ma potrebbero essere interpretazioni discutibili che dipendono anche dal suo modo di vedere le cose però per fare questo freud punta ad indagare l'attività mentale latente che sta al di là della condotta manifesta il tipico paziente di oggi chiederebbe a freud perché devo soffrire perché dipendo da lui o da lei e perché mi vado a cacciare sempre i rapporti distruttivi che mi portano a non poter fare a meno di pensare a lui o a lei nonostante questa persona mi faccio soffrire e allora freud cosa fa a questo punto inizia ad indagare gli aspetti latenti cioè le cause inconsce che determinano quel comportamento che sembra insensato al fine di liberare la persona dalla coazione a ripetere sempre lo stesso modello freud è uno che vuole conoscere l'origine cioè il senso e la funzione del sintomo per inquadrarlo nella sua globalità all'interno di una concezione olistica globale della persona che considera la qualità inconscia di certe azioni ovviamente il discorso freudiano non si esaurisce qui e non dobbiamo credere che certi traumi del passato non siano accaduti perché al 99 per cento sono veri discorso complesso e sfumato vi rimando a molti altri video che troverete nel mio canale youtube roberto ruga psicoterapeuta e vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata oppure telefoniche se volete richiedervi una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su whatsapp a questo numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome cognome e orari prefetti vi informo inoltre che ho scritto dei libri che sono ordinabili solo attraverso amazon buona giornata